Ciao a tutti amici di AVR Magazine, il gioco che vi presentiamo oggi lo trovate gratuitamente in App Store ed è sviluppato da Atari, stiamo parlando di Circus Atari, un simpatico gioco dove dovremo aiutare un clown a recuperare tanti soldi seguendo dei palloncini, nella parte dello store potremo utilizzare quelli che sono i nostri credit per prendere queste reti, queste reti ci aiuteranno quando non riusciremo più a raggiungere i palloncini, palloncini che ci faranno avanzare nel nostro percorso. Andiamo a effettuare il gameplay come vedete per andare verso sinistra dovremo inclinare il nostro smartphone e invece per continuare il nostro percorso dovremo seguire i palloncini verdi o blu o rossi o di altri colori. Andiamo subito a vedere il gioco ecco come vedete durante il percorso ad esempio troveremo delle botole oppure delle mole che ci aiuteranno a continuare oppure in questo caso il palloncino blu che ci porterà su senza dover prendere altri palloncini oppure il palloncino rosso che abbiamo passato che è quello che come questo qui ci porterà su molto velocemente il gioco è molto semplice e divertente e ve lo consigliamo bene ragazzi per questa video recensione è tutto ci rivediamo alla prossima ciao a tutti ciao